che fa parte del consiglio direttivo Franco ha queste due sculture questa l'ha data in permanenza alla CNA e l'altra che si intitola lo sregolato è portata qui dunque intanto grazie a Franco c'è questo lavoro di arte contemporanea che abbellisce un ambiente classico come la CNA perché qui in questa struttura della CNA pensate, ci ha addormito nel Medioevo anche un Papa nel viaggio per andare a Roma per cui avere appunto un capolavoro di arte contemporanea all'interno di un ambiente così classico è una prerogativa importante e questo Franco diciamo con il suo cordore l'ha donata alcuni anni fa qui alla CNA mi ricordo si fece la cerimonia con il drappo e tutto il resto ecco lo stile di Franco lo stile di Franco lui scolpisce di getto questo è in modo istintivo lui se le immagina nella mente le sculture prima di realizzarle quindi cerca con la sua idea della scultura di trovare la pietra arenaria che si confà poi al lavoro duro di scalpello fatto con gli strumenti a mano e per realizzare l'opera per cui c'è diciamo istintivo e visionario e un digetto e per cui è un'arte anche simbolica onirica per certi aspetti per cui ecco poi le sculture di Franco sono un giro un po' per tutto il mondo e anche l'ultima donazione mi ha detto che è stata fatta a San Roberto che è una cittadina della Calabria e io ho scoperto al museo di San Roberto quindi Franco complimenti vuoi dire qualcosa? no ha detto tutto grazie complimenti a lei presidente grazie anche al CNA e a tutti gli intervenuti bene grazie Franco grazie